K-Drama Festa Sorrento è il primo festival al mondo dedicato a K-Drama e K-Culture che si distribuisce in quattro giorni nella città di Sorrento dal 14 al 17 marzo 2024. Inizia con una conferenza aperta dall'ambasciatore Yison Goh e con il keynote speech di Rajon Gil e poi una tavola rotonda con studiosi e esponenti istituzionali tra cui ci sarà un rappresentante dell'ENIT. Il giorno dopo si continua con la conferenza con una studiosa e due studiosi coreani e poi il poveriggio di venerdì iniziamo con le nostre celebrità. Apre Kim Eun-hee, la sceneggiatrice di note serie televisive come Kingdom e Signal e poi la sera ci sarà la proiezione in anteprima per il sud Italia di Road to Boston alla presenza del regista Kang Jae-kyoo il sabato. Avremo un incontro con l'attore Ho Jiang Se, molto noto e amato in Italia per titoli come It's ok to be not ok e Sweet Tom, la seconda stagione. Avremo sempre la stessa mattina del 16 l'attrice Ye Ji Won, molto nota per esempio su Netflix con la serie Do Do, Sol, Sol, La Sol. Dopo l'incontro con l'attrice Ye Ji Won avremo un evento eccezionale, ovvero il nostro sponsor AT Agrofisheries Food Korea, ci offrirà e offrirà all'audience, alla cittadinanza degli assaggi di street food coreano, quindi avremo ottobocchi, mandu, ramion a disposizione di chiunque vorrà prendere parte a che dramma festa. Il pomeriggio continuiamo con l'attrice Kim Ye Eun, che è un volto notissimo, l'avete vista in i Taiwan Class e in 25, 21, 25, 21 e la sera ci saranno i K-Drama Awards con il primo Red Blue Carpet al mondo in onore della bandiera coreana e la sera sempre il nostro sponsor AT Korea, ha organizzato, ma penso sia un'altra anteprima mondiale volendo, questa unione tra lo chef Mario Affinita di Don Geppi, una stella Michelin presso l'hotel Majestic di Sant'Agnello, in collaborazione con la chef coreana Sun e ci sarà un menù a sorpresa che unirà appunto le eccellenze della penisola sorrentina e quelle coreane. La domenica continuiamo con l'incontro tra Italia e Corea, quindi la serialità Made in Campania a partire dalla hit Mare Fuori con Maurizio Gemma, presidente di Campania Film Commission, vicepresidente d'Italia Film Commission, Francesco Pinto, il produttore di Mare Fuori, forse ci sarà qualche piccola sorpresa, ma non lo sappiamo, e poi invece dalla parte insomma Corea avremo i due produttori Jang Won-sook a K-Billy A-Komen e Lee Wan-jin di SBS. Chiudiamo in bellezza con l'attore Yoo Joon-sung che è Gamotak in The Uncanny Counter e il direttore insomma della scuola di magia Park di Alchemy of Souls, quindi è molto importante sia a livello diplomatico perché celebra i 140 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea e si inserisce ovviamente in un range più ampio di celebrazioni, nonché è importante perché è il punto zero di una serie di collaborazioni che vedremo orientate all'hallium, quindi al K-drama e anche al K-pop che verranno concordate a partire da questo evento e nonché unisce le persone che compongono le comunità scientifiche di Sapienza, del Beck-Bock Institute di Seoul, di Lars Laboratorio Romano di Semiotica e delle varie università da cui provengono la studiosa e gli studiosi invitati.